Ultima spiaggia per la CR Messina che ha un solo imperativo, la vittoria sul campo del Monterosi, sono ben sei gli indisponibili in casa Messina e per il tecnico Modica sarà emergenza soprattutto a centrocampo dove le scelte sono praticamente obbligate. Il Monterosi è il fanalino di coda del torneo, distanziato di due punti dai peloritani ma ne ha conquistati sette nelle ultime sei giornate, riducendo sensibilmente le distanze dai messinesi. Ostacoli calabri per le due messinesi in serie D, entrambe chiamate ad incamerare l'intera posta in palio. Il città di Sant'Agata in casa contro la Gioiese, in palese difficoltà, mentre la nuova Igea Virtus se la vedrà nella Locride contro i locali, impantanati nella palude della graduatoria. Impegno calabro per la vice capolista Siracusa a Castrovillari, al provinciale di Trapani invece ostacolo Portici per la capolista. Tre turni interni e due esterni per le messinesi in eccellenza B. Spicca il match di domenica a Lenzo Vasi in ottica play-off tra la Nebros e la Leonzio. Il Milazzo dovrà sfruttare il secondo turno interno contro la Leonfortese, idem la Ionica che in casa deve battere l'Atletico Catania. Trasferta proibitiva per il Rocca a Quedolcese in casa della vice capolista Enna, stessa cosa dicasi per la Messana al De Simone contro il Real Siracusa. In promozione riflettori puntati su Lentini di Mistretta per l'arrivo della capolista Rosmarino. L'Aquilo Abbafia, seconda forza, fa visita al San Fratello, attesa per il derby di Brolo tra Nuova Rinascita e Gioiosa e per quello di San Marco tra Luntina e Città di Galati. Ghiotto il sabato in prima categoria girone B. Al merendino arriva la capolista Bagheria. A Brolo sfida ad alta quota tra Futura e Sinagra, incroci con le Palermitane per le altre Nebruidee.